E se il Presidente Conte invece di fare il Presidente del Consiglio degli Italiani vuole fare il Presidente del Consiglio degli Immigrati allora si dimetta perché il suo stipendio lo stanno pagando gli italiani e noi che siamo il Parlamento della Repubblica Italiana oggi non vogliamo stare a discutere di immigrazione noi vogliamo stare a discutere dei problemi degli italiani è intollerabile che mentre noi parliamo dei decreti in sicurezza di Conte lui vada su Facebook a dire che cosa gli italiani potranno o non potranno fare a Natale è nel Parlamento della Repubblica Italiana che lo deve venire a dire perché noi di questo ci vogliamo occupare e non di altro come piace fare invece alla sinistra